Si attende il segnale, partiti! Non brillante di Answer, nemmeno Folcacchieri, veloce invece Pinzotta al pari di Blondore e Savainas a contatto galoppa Cleverband in scia Rosa Coletti, più all'esterno galoppa di Answer in coda e scivolato Folcacchieri. Non c'è grossissima andatura in questa fase iniziale con Pinzotta che ha preso la leadership senza sforzo apparente nei confronti di Savainas che ha all'esterno Blondore, la scia di Savainas è presa da Cleverband, la scia invece di Blondore è presa da Rosa Coletti, più indietro di Answer e Folcacchieri. Ora si inizia ad accelerare di fronte all'arrivo, Pinzotta inizia ad aumentare l'andatura su Blondore, Savainas, Cleverband che prova ad aggiungersi alla lotta insieme a Rosa Coletti, più indietro gli altri di Answer che ha accompagnato al pari di Folcacchieri. Pinzotta prova a ripartire sotto la duplice minaccia interna di Savainas e di fuori quella di Blondore, più all'esterno prova a risalire anche di Answer insieme a Cleverband, questi primi con Pinzotta che assaggia la fruza del suo interpete per provare a ripartire, si scopre allora a Cleverband che fa da taglia fuori su di Answer, Pinzotta in vantaggio, c'è la rincorsa da parte di Cleverband che prova ad andare a prendere Pinzotta che a questo punto è scappata, Pinzotta che è scappata, Cleverband che però prova a ricucire il gap, Walter Gambarota che mette male alla fruza a questo punto, a cento dal palo, Pinzotta in vantaggio su Cleverband, Pinzotta su Cleverband che ci prova, Pinzotta tiene dietro, Cleverband di Answer e Blondore, l'hanno fatta scappare Pinzotta, l'hanno fatta scappare e l'ha presi tutti nel sacco, Pinzotta tiene dietro Cleverband di Answer e Blondore, dopo andatura di comodo nella fase iniziale Antonio Fresu ha giocato d'anticipo, è scappato il momento propizio.